C'è una cappa di calore. 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 Non mi dispiace, dopo aver vagato tanto nel deserto. C'è uno scarico oltre quella grata nella parete. C'è una cappa di calore. Il verdolume è ideale per commerciare. C'è una cappa di calore. 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 Chiusa. Serve un modulo chiave. C'è una cappa. C'è una cappa di calore. 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 L'acqua scorre verso lo scarico nel paese. Oh! L'acqua... ... Una chiave. 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 Una chiave.